Amici all'ascolto di Telepace, ben trovati a questa nuova puntata di Missione Mondo. Quest'oggi davvero siamo anche in un posto particolare, appunto vi parliamo da fuori, qui in zona di Sestri, e incontriamo alcuni membri della comunità di Sant'Egidio, una comunità che tanti conoscono la sua esistenza, ma tanti altri forse che non lo sanno, non sanno che cosa. Allora andiamo direttamente a chiedere a Claudio di che cosa si tratta, che cosa era? Intanto ben trovati e ben arrivati tutti. Ecco davvero e poi avremo l'occasione di conoscere anche tutte le persone, appunto gli ospiti di quest'oggi. Intanto cominciamo con Claudio. Sì, la comunità di Sant'Egidio è una comunità cristiana che è nata nel 1968 a Roma, da un gruppo di liceali allora, che iniziarono a ritrovarsi per servire i poveri e leggere insieme il Vangelo e pregare. Da allora la comunità di Sant'Egidio ha camminato molto, sempre illuminata dalla parola del Signore e dal servizio con i poveri, dall'amicizia con i poveri, e si è da Roma in tante altre città prima d'Italia e del mondo, quindi da Roma al mondo intero. Già qui mi sembra che siamo già rappresentativa di un pezzo del mondo. Sì, sicuramente. Intanto, ecco, se puoi presentarci anche le persone che ci sono qua. Sì, i nostri amici che sono qui con noi sono appunto delle persone che sono arrivate in momenti diversi in Italia con il progetto dei corridoi umanitari. A fianco a me, alla mia sinistra, c'è Medan, che viene dall'Eritrea, Amleset e Girmalen, che sono marito e moglie, che vengono dall'Eritrea. Qui alla mia destra c'è Usam, che viene dalla Siria, Samir, che viene anche lui dalla Siria, e Kidus, che viene dall'Eritrea. A Genova, dove abito io, dove c'è la comunità di Sant'Egidio più grande qui in Liguria, ci sono altre persone, sempre nel progetto dei corridoi umanitari, che sono 15. C'è la prima famiglia siriana, che è arrivata nel 2016, che sono appunto due bambini, papà e mamma, e c'è anche una mamma con due bambine, in questo momento al Gaslini, proprio perché i corridoi umanitari privilegiano le persone vulnerabili, le persone in difficoltà e le persone malate. Bene, e quindi diceva proprio appunto questa apertura verso i poveri, non solo di qua in Italia, oppure dell'Europa, ma proprio di tutto il mondo. E a proposito avete già fatto tantissime cose, io mi ricordo anche tanti progetti di pace, di riconciliazione, e adesso appunto c'è questa emergenza delle migrazioni, che poi tra virgolette dico emergenza, ma emergenza non lo è mai, perché da che l'uomo è c'è, c'è sempre le migrazioni, sono una cosa, qualcuno se lo dimentica. Allora, diceva quindi, gli ospiti che abbiamo qui, come sono arrivati? Lo chiedo direttamente anche a Samir, che un pochino d'italiano sa già. Buonasera, sono venuto in Italia da Lesbo, da quasi due anni, ero nel campo profughi di Lesbo, sono venute due persone dalla comunità di Sant'Egidio, ho contratto e siamo venuti qua. Grazie Samir, grazie, poi andremo avanti, e poi anche accanto a... Allora, Usem è arrivato da pochi giorni, quindi diciamo che è previsto, tra le prime cose, per chi arriva al corso di italiano, ma non gli possiamo chiedere di fare un intervento in italiano ancora presto. Medane, se vuoi dire due cose in inglese, anche chi sei, da dove vieni? Buongiorno, mi chiamo Medane Imane, sono da Eritrea, I'm from Eritrea, I born in 1973, in Asmara, the capital city of Eritrea. Grazie, mi sembra appunto, sì, può tradurre Claudio, sì, grazie. Lui appunto viene, si chiama Medane, arriva dall'Eritrea, è nato all'Asmara, e anche lui come Kidus Usam è qui in Italia da pochi giorni, anche se sono già bravi perché si impegnano molto nel corso di lingua italiana. Volevo aggiungere una cosa sul progetto, in particolare dei corridoi monetari, anche un po' per aiutare chi ci ascolta a comprendere come funziona il progetto. Proprio questo vorrevo chiedere perché è una cosa di cui tanti non sanno di che cosa si tratta. Allora, l'idea del progetto dei corridoi umanitari nasce essenzialmente di fronte a quello che è stata la tante tragedie dell'immigrazione. La guerra in Siria ha prodotto, non solo la guerra in Siria, ma comunque molti, grandi numeri di persone che sono spinte verso l'Europa e spesso abbiamo visto viaggi che sono finiti tragicamente, in particolare quello che è stato nell'ottobre del 2013 che è stata appunto una tragedia con un numero elevatissimo di vittime. Di fronte a questo ci siamo chiesti con altri quale risposta si poteva dare proprio anche da cristiani, da persone, da uomini e donne che non possono rimanere indifferenti di fronte al dolore degli altri, di fronte alla tragedia degli altri. Quindi è nata l'idea dei corridoi umanitari che come dicevo è un progetto che in questi anni ha portato quasi 2000 persone in totale sicurezza in Europa. Il primo protocollo d'intesa che poi è stato rinnovato è la comunità di Sant'Egidio assieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche e alla Tavola Valdese. Un protocollo siglato con il Ministero degli Esteri e con il Ministero degli Interni. Sostanzialmente si basa su tre principi cioè che sono quelli di evitare i viaggi drammatici che spesso appunto chiamiamo viaggi della morte ma che hanno prodotto in questi anni tante vittime diciamo da numeri molto elevati proteggere le persone dal dal diventare vittime dei trafficanti di uomini e l'altro che è un punto fondamentale è di viaggiare in totale sicurezza e legalità ed entrare in Italia. Quindi questa è la parte dell'accoglienza. Arrivati in Italia dove le persone presentano la domanda una richiesta di asilo a quel punto le persone vengono accolte ed entrano in una rete di amicizia e questo è molto importante perché vuol dire iniziare un percorso di integrazione un percorso che fa sì che le persone non vengano accolte in strutture ma in una rete appunto che è come una famiglia e qui il grande il grande pregio è diciamo il valore aggiunto di questo progetto che è proprio quello di non solo di salvare delle persone dalla appunto dalla guerra o da situazioni difficili e da viaggi molto pericolosi ma è quello anche di creare questo tessuto perché chi accoglie si rigenera chi accoglie apprendosi inizia sta meglio inizia ad allacciare delle relazioni e dei rapporti con chi è arrivato e quindi le comunità che hanno accolto in questi anni sono delle comunità che sono cresciute quindi accogliere fa anche bene non soltanto a chi viene accolto ma appunto a chi apre le porte di casa propria ecco precisamente quali sono le comunità che accorgono oppure se sono dei singoli sono delle persone ecco chi ci ascolta magari si chiede ma io cosa posso fare in questo modo si può fare tanto perché i corridoi umanitari prevedono proprio che l'accoglienza sia fatta che può essere fatta da chiunque da parocchie da associazioni da singoli ad esempio in alcune città d'Italia ci sono gruppi di professionisti che si sono messi insieme e hanno messo le risorse finanziarie e tutte le energie necessarie per accogliere una famiglia proprio perché i corridoi umanitari non sono a costo zero per lo Stato ma l'accoglienza è totalmente a carico appunto di chi accoglie quindi è prendersi carico in pieno di chi arriva e quindi di chi prova a ricostruire insieme a chi l'ha accolto un futuro ecco davvero grazie per questo perché è importantissimo importantissimo anche soprattutto quello che dicevi questo arricchimento reciproco non tanto semplicemente fare del bene all'altro ma sapendo che il bene che faccio veramente mi ritorna in tanti modi e quindi queste persone si integrano questa è una parola chiave che Papa Francesco insiste tanto dice ecco accogliamo ma soprattutto integriamo ecco questo processo di integrazione come avviene in dettagli diciamo con voi il processo se vogliamo dire così il processo di integrazione è sempre diciamo affonda le radici sempre nella vita di tutti i giorni innanzitutto e della vita insieme quella che poi noi chiamiamo con una parola che può comprendere un po' tutto amicizia ovviamente le persone che arrivano che vengono accolte si trovano in una appunto in una famiglia che può essere appunto anche una parrocchia anzi spesso è una parrocchia associazioni gruppi sentono veramente di essere in un clima familiare e questo li aiuta molto a compiere quel percorso che è fatto appunto di apprendimento della lingua italiana di comprensione anche di una cultura che tante volte è molto diversa ma lo si fa con gli amici nella ricerca del lavoro nella ricostruzione appunto di un percorso che possa guardare al futuro pensiamo ad esempio che in Italia tutti i bambini che sono arrivati e sono veramente tanti con i corrido umanitari sono stati iscritti alla scuola e sono bambini che in alcuni casi non erano mai andati a scuola perché provenivano da zone colpite dalla guerra ad esempio OMS o le zone della Siria più colpite non erano mai stati a scuola e invece in Italia hanno apprezzato e finalmente assaporato la bellezza di andare con gli altri bambini a scuola oppure ad esempio sono anche tanti giovani che hanno ripreso una vita normale e in questi anni sono nati anche dei bambini in Italia ad esempio uno a Genova e sono bambini che sono nati in un paese in pace finalmente sono nati in pace e questi sono tutti piccoli passi piccoli grandi passi che affondano come dicevo prima le radici nell'amicizia nel fatto che si riprende a camminare ma non più non da soli ma lo si fa con qualcuno che ti ha colto e che si rende conto che camminando assieme sta anche meglio lui e che l'accoglienza è un valore soprattutto per lui per la sua vita e questo credo che sia anche un valore per noi molto importante un valore di profondo umanesimo un valore cristiano che dovremmo diffondere molto di più questo è molto importante e veramente credo che è una grande ricchezza una grande verità vorrei chiedere a Samile che già un pochino approfittiamo del suo italiano che già conosce ecco come ti senti appunto in questo tempo che sei qua veramente cosa puoi dire dell'accoglienza che hai ricevuta sì certo sento molto contento perché è venuto anche mio fratello dopo e siamo abbiamo fatto la scuola come ha detto facciamo la scuola d'italiano e adesso sto facendo anche il corso del parrucchiere faccio un po' di lavorare ho iniziato come si chiama di nuovo ho iniziato di nuovo una vita tranquilla bene grazie grazie davvero ecco Claudio chi ci ascolta a me viene in mente mi dico si fa principalmente forse due domande una è come si fa proprio a scegliere queste persone parlavi dei bambini ecco io penso che non è così facile ci sono tantissimi profughi ci sono tante necessità poi l'altra domanda se vuoi appunto collegarli e anche ecco in che situazione si trovano queste persone veramente da dove partono perché magari uno che è qui le vede arrivare ma poi da che situazione partono veramente beh allora intanto volevo aggiungere solo una piccola cosa che diceva Samire appunto lui ha iniziato a fare il corso del parrucchiere che era anche un suo sogno una tradizione di famiglia che si è finalmente rimessa in moto nonostante il dramma di sette anni di guerra e quindi anche una prospettiva lavorativa suo fratello che fa il sacristano ma ad esempio oggi non è qui con noi perché è ad Albenga con un gruppo di anziani come quelli che ci sono qui nel Sant'Egidio e lui tutte le settimane va in istituto segue gli anziani i disabili e quindi sono anche energie importanti di chi di chi appunto cammina veramente insieme fa la stessa vita lo stesso percorso che facciamo tanti di noi sulle due domande dico sì allora innanzitutto le persone che partecipano al progetto dei corridoi umanitari vengono ci sono delle persone che scelgono scelgono cioè che individuano le persone all'interno dei campi profughi sia nei campi profughi in Libano sia in quelli in Etiopia perché come dicevo vengono privilegiate le persone vulnerabili quindi in tanti casi ad esempio il 25% delle persone che sono arrivate in queste due mila con i progetti del progetto dei corridoi umanitari sono persone che sono affette da gravi malattie e quindi questo è anche una cosa i bambini ovviamente sono spesso le vittime le vittime maggiori anche di una della guerra anche di situazioni difficili proprio perché gli viene strappato loro il futuro quindi sono veramente però anche ci sono arrivati anche degli anziani dei malati delle persone dei giovani che avrebbero diciamo dovuto compiere percorsi diversi di guerra e invece hanno trovato una via di fuga da questo e riprendono a vivere in pace quindi chi ci vuole aiutare può farlo mettendosi in contatto con la comunità di Sant'Egidio e questo significa poter aiutare in tanti modi accogliendo delle famiglie chiedendo di poter accogliere delle famiglie sono diciamo c'è la possibilità per tutti ad esempio Kidus e Amlesette abitano a casa di una famiglia a Genova e quindi questa è una possibilità per tutti sostenendo anche economicamente sostenendo soprattutto la possibilità dare la possibilità di arrivare in Italia in maniera sicura e di ricominciare un percorso di integrazione sulla situazione che vivono nei loro paesi alcune situazioni sono facilmente immaginabili il fatto che molti in Libano sono dei campi molto grandi dove appunto abitano persone siriane che sono scappate dalla guerra hanno trovato lì la salvezza però in condizioni non facili proprio per l'alto numero delle persone e stessa cosa in Etiopia dove tanti eritrei somali perché appunto come dicevo prima anche i somali sono un paese che da tantissimi anni non ha non ha un futuro non ha uno stato quindi è una situazione veramente complessa si ritrovano nei campi quindi le situazioni sono molto difficili in cui le persone non hanno nulla ma tra le tante cose che mancano quella che più colpisce appunto questa idea di non avere un futuro di non avere un domani di pensare soltanto a cercare una via di fuga che tante volte è quella del barcone o quella di inoltrarsi nel deserto dove si finisce vittime dei trafficanti ma tante volte si finisce anche vittime del mare o dei terribili passaggi nel deserto grazie tanto Claudia davvero di questa testimonianza penso che comunque è stata un'apertura per chi perché sono esperienze molto forti molto importanti che spesso non sono conosciute non sono conosciute pur essendo anche delle realtà della nostra quotidianità ecco è importante allora quello che ci hai comunicato io adesso per chiudere semplicemente perché mi piace anche perché tutto quello che si fa praticamente è volontariato non è che uno dice vado lì per guadagnarci non si sa che cosa la comunità di Sant'Egidio è fatta di volontari dove tutto è gratuito è dove nessuno percepisce nulla e tutti fanno i volontari quindi questo è un principio fondamentale una caratteristica fondamentale della comunità e volevo aggiungere appunto su questo che tutti quelli che sono interessati a questo progetto dei corridoi umanitari che vogliono dare una mano si possono mettere in contatto con noi attraverso il nostro sito che è appunto www.santegidio.org o in particolare ci si può mettere in contatto con la comunità Genova con il numero di telefono io aggiungo alle nostre parocchie ai parocchiani davvero di sentire questa cosa che è una cosa importantissima molto spesso ci si chiede ma cosa fa la chiesa cosa fanno i cristiani in queste in queste circostanze appunto di accoglienza di migrazione tutto ecco i cristiani fanno quello che state facendo è molto importante saperlo è molto importante anche perché il progetto dicevo è sostenuto da un primo protocollo che è stato rinnovato di tipo diciamo ecumenico comunità di Sant'Egidio federazione delle chiese evangelie tavola valdese poi c'è un secondo protocollo che è fatto comunità di Sant'Egidio e CEI e quindi ad esempio Medan e Kidus sono arrivati con questo protocollo che consente a persone eritree dai campi dell'Etiopia di giungere in Italia quindi c'è una grande partecipazione dei cristiani e dei cattolici in Italia però deve essere una partecipazione che si diffonde e deve crearsi questa rete perché è la rete che poi alla fine accoglie e che consente di camminare di nuovo insieme grazie grazie nel salutare tutti quelli che ci stanno seguendo ripeto davvero quello che dicevi che proprio fare bene fa bene a chi lo fa non soltanto a chi lo riceve ma anche a chi lo fa quindi davvero su questo cammino invitiamo tante persone a sostenervi e anche a mettersi su questa strada veramente dello scambio hai usato più che parola accoglienza proprio la parola amicizia ecco sentire che ci sono degli amici che arrivano e che non hanno bisogno di nient'altro che costruire questa rete di amicizia quindi grazie e in questa amicizia andiamo avanti sempre a tutti quelli che ci seguite Missione Mondo termina qui per oggi arrivederci alla prossima puntata a chi lo fa a chi lo fa a chi lo fa a chi lo fa Grazie a tutti.